Mantenere la calma, che bella cosa, eh? Cari spiriti eterni, caro spirito eterno, ma te ti hanno mai detto di mantenere la calma? Mi ricordo di aver letto su giornali in passata un terremoto, un'alluvione, una calamità naturale dove le autorità invitano i capi politici, le autorità invitano la gente a mantenere la calma. Allora, siccome esiste un vocabolario italiano, tre cani, sono andato a vedere che cos'è la calma e quello che dicono i vocabolari italiano più autorevoli dicono che è un'atmosfera, è un'atmosfera, la calma dove regnano il silenzio e la pace. Paragonano la calma in mare, chiamata anche bonaccia, cos'è? La calma è assenza di vento e poi dicono la calma è sinonimo di tranquillità, quiete, serenità, pace, silenzio, la pace, la tranquillità. Dove? Di colpo nel momento più difficile si dice alla gente mantenete la calma, mantenere la calma, mantieni la calma, ma chi gliel'ha insegnato? A scuola state calmi e insegnami la calma. Ecco la differenza tra Oriente e Occidente. Andando in Oriente ho visto che la calma, la quiete, la tranquillità è un obiettivo spirituale da raggiungere con la pratica, che qui quella pratica si chiama meditazione, qui la chiamano meditazione. E la come la chiamano? Pratica. Una persona buona, sadhu, perché esegue una pratica spirituale quotidiana, sadhana, sadhu, sadhana. Chiamiamolo meditazione per comodità. Quindi la calma deve essere una qualità che si sviluppa dall'infanzia, film. Ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere questo regista, David Lynch, famoso per Twin Peaks che non ho mai visto e altri film, che ha fatto una fondazione in cui insegnano soprattutto nelle scuole difficili d'America, i ghetti, i ghetti sono le zone povere, perché è tutto diviso in quartieri, ricchi, medio ricchi, poveri. Stanno insegnando, sono arrivati a insegnare quasi a un milione di bambini difficili. Ripeto, le zone povere sono quelle dove c'è meno calma. La calma c'è a metà, perché nelle zone ricche ricche c'è trasgressione, quelle povere povere c'è ribellione, rabbia. Stanno insegnando in quelle zone disagiate la meditazione. E che cosa hanno ottenuto? Che i bambini crescono, quelli tra i 10 e i 12 anni insegnano, più calmi, più sereni. Persino nello sport ci sono gesti di nervosismo, i tennisti che spaccano le racchette. Giocatori, cioè quel giocatore è sportivo che insulta all'arbitro, uno sportivo che fa una rissa con un atto, il pubblico che invade il campo. Perché non c'è la calma? La calma è un'atmosfera dove regna lo silenzio, la quiete, la serenità, la pace. In mare, ripeto, è assenza di vento. Ma qual è il vento? Qual è il vento che agita la mente? Perché quando dice mantenere la calma si riferisce alla mente delle persone, no? Qual è il vento che agita? Il nervosismo? Informazioni che allarmano? Se uno guarda oggi un telegiornale, come fa a mantenere la calma? E te lo danno ore 13, ore 20, cercano di prendere 19 e 30, ore 20, 20 e 30, a qualunque ora tra le 7 e mezzo di sera, le 7 e le 8 e mezzo, c'è un telegiornale che agita, innervosisce, è come il vento, la tempesta, non c'è tranquillità. Menti che uno è tranquillo, accende, che cosa vede? Il peggio del pianeta Terra è concentrato. Poi in fondo, come contentino, c'è qualche attore, qualche attrice, qualche cantante che ti propone di dare dei soldi andando al cinema, andando al concerto o comprando qualche prodotto del mondo, dello spettacolo. ricordati, il silenzio è la base, il silenzio è la base della calma. Il silenzio porta alla pace mentale, la respirazione tranquilla favorisce la pace mentale. Noi siamo spiriti incarnati, ci conviene cercare l'equilibrio, l'armonia tra corpo, mente, spirito, spirito, mente, d'accordo, essere un circuito continuo, un flusso continuo. Per quello che dicevo prima, ripeti, io lascio scorrere liberamente l'energia vitale in tutte le cellule del mio corpo, respira consapevolmente, il mio corpo è un luogo sacro, io vivo in un luogo sacro. Quindi, caro spirito eterno, che tu magari non lo sapevi, sei un amministratore delegato di te stesso. Trattati bene. Sei un'azienda a nominazione delle aziende, soprattutto quelle di moda, no? Giorgio Armani, ecco, io sono un'azienda, Giorgio Cerquetti. Tu prenditi, sei firmato da te stesso, no? Oggi molti comprano dei vestiti firmati. Tu hai un corpo firmato da te. Se tu che decidi, se tu lo stilista cosa mangiare, cosa bere, come dormire, come relazionare, quindi non solo sei invitato a mantenere la calma, ma prima devi capire che cos'è la calma. La calma è un'atmosfera positiva, piacevole, gioiosa, che va creata e mantenuta. Buona fortuna.